Avvieremo l'iter per la costruzione del centro sportivo, lo porteremo probabilmente a una delle prossime giunte della settimana in base all'incontro che abbiamo avuto sabato scorso con il presidente del Pescara e il dottor Pierangeli. È stato un incontro molto proficuo e ci siamo alzati entrambe le parti con grande soddisfazione. I tempi della costruzione di questo centro sportivo, ovviamente ci sono anche dei tempi burocratici, se volessimo fissare una data di inizio dei lavori? Allora, mi sembra eccessivo decidere e fissare la data di inizio dei lavori, però noi abbiamo assicurato alla controparte che in pratica saremo velocissimi in tutte quelle che sono le dinamiche burocratiche. A detta del presidente del Pescara, loro sono contentissimi non solo della zona, quindi come location molto vicina a Pescara, ma perché Silvia ha un bacino di tifosi elevato, quindi lui stesso ha detto che merita questo riconoscimento. Partiremo con la costruzione dell'impianto sportivo, perché i problemi ci saranno ogni giorno, quindi deve essere a prescindere.